Questa è l'ottava edizione di Cerasuolo a mare, saranno dieci punti di degustazione del Cerasuolo e in questi dieci punti si troveranno le 37 cantine abruzzesi del Cerasuolo perché il Cerasuolo è il vino solo nostro, solo abruzzese, dove si potranno degustare questi vini affiancati a dei menu fatti in piccole porzioni da parte dei punti che aderissono, quindi degli stabilimenti balneari. Avremo il primo punto a Largo Venezuela con una petta mobile che fa gli arrosticini e continueremo stabilimento per stabilimento fino alla fine del percorso che sarà a Bagni Bruno. Tre giorni, 11, 12 e 13 di agosto, è una manifestazione che Montesilvano e i balneatori di Montesilvano l'hanno pensata insieme a noi otto anni fa, l'abbiamo realizzata, oramai è diventato un appuntamento regionale perché quest'anno si chiude a Montesilvano, ma è iniziata il 23 di luglio a Silvi, poi Francavilla, Rosetto, Casalbordino, Fossacesia, Pescara e così via, quindi una manifestazione che ci sta dando tante soddisfazioni come presenza, ma soprattutto l'obiettivo è raggiunto far lavorare gli stabilimenti balneari per un'iniziativa di questo genere e far conoscere al turista il vino Cerasuolo. Grazie.